Musica Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio del 22enne di origini albanesi, ucciso nella notte tra mercoledì e giovedì a Sinalunga. Ad esplodere il colpo di una pistola semi-automatica, il risultato poi fatale sarebbe stato Giulio Sale, un allevatore residente a Fogliano, finito in manette la notte del delitto ed ancora ricoverato all'ospedale Lescotte, con una gamba ed alcune costole rotte. Secondo la versione fornita dall'indagato, il 45enne avrebbe raggiunto a piedi da Fogliano l'abitazione di Sinalunga, all'interno della quale è stato esploso un solo colpo di pistola. Si sarebbe dovuto chiarire per questioni di lavoro col proprietario dell'abitazione. L'allevatore ha spiegato che ci sarebbe stata un'aggressione contro di lui da parte del giovane, che avrebbe poi impugnato una pistola puntandogliela contro. Dopo una colluttazione, Giulio Sale avrebbe così disarmato l'uomo sparandogli alla nuca e poi scappando nei boschi della zona. L'omicida si è portato con sé l'arma ed avrebbe lasciato anche tracce di sangue nella vittima lungo il percorso. Sono stati raccolti numerosi campioni ematici da inviare al RIS di Roma per accertare se il sangue di cui era ricoperto il 45enne sia quello della vittima. Sono state inoltre eseguite misurazioni, rilevamenti fotografici e video sul luogo del delitto per definirne la dinamica. Trovate anche un colpo esploso ed una cartuccia inesplosa. Su questi reperti verranno eseguiti rilievi ballistici come sulla pistola. Si attendono infine gli esiti dell'autopsia sul corpo della giovane vittima. Coordinate dal PM Nicola Marini, dunque le indagini proseguono per chiarire la dinamica e soprattutto il movente del drammatico episodio.